Carmelo Calì, ci aiuta a capire che cosa succede, quando succede un delitto di quel tipo, perché facciamo così, torniamo al 2007. Mariana Manduca, che per lei è? Mia cugina. Sua cugina, aveva 32 anni e veniva uccisa a coltellate dall'ex marito. Ora non si può esattamente dire che fosse un fatto inatteso, perché Mariana quante denunce aveva fatto? 12 volte. 12 volte aveva denunciato l'ex marito, dopodiché questo non è bastato e ad un certo punto a Mariana avevano tolto i figli, perché? Perché probabilmente dalle perizie che avevano fatto veniva fuori che mia cugina non era adeguata in quel momento, ma non era vero perché poi successivamente sono state fatte altre perizie. E li avevano riaffidati i figli, solo che lei non ha fatto in tempo a riaverli con sei figli. No, la settimana prima del riaffido dei bambini lui si è organizzato, l'ha uccisa con sei coltellate, quindi è finita lì la vita di Mariana. Mariana aveva tre figli? Sì. Tre maschi? Che io non conoscevo. Quanti anni avevano allora? Sei, quattro e tre, quasi tre. Come si chiamano? Salvatore e Carmelo e Stefano. E lei a sua volta aveva tre figli? Sì. Riccardo, Samuele e Matteo. E a quel punto lei ha pensato adesso facciamo una squadra di calcio? Eh no, è che... Li prendo tutti con me. Partiamo dal fatto che non ci pensi minimamente alla cosa del genere, quindi quando ci è arrivato è arrivato proprio come una spalla. Cioè quando avete saputo che questi bimbi erano rimasti soli? Sì, sì. La stessa sera dell'omicidio ci hanno avvisato che esistevano questi tre bambini, io non sapevo nulla di mia cugina. Quindi abbiamo preso l'atto di questo e nell'arco di poche ore ci è stato dato l'affido congiunto con Senigallia. Quindi abbiamo fatto questa scelta. E come si decide? Cioè lei ha parlato anche con i suoi bambini, lo ha deciso con sua moglie? Non abbiamo avuto tempo di fare tutto questo. L'organizzazione è stata quella di pensare, di portarli su, quindi nel più breve tempo possibile. Noi il tre sera avevamo già la certezza di portarli a casa, il nove mattina eravamo a Paragonia a portarli indietro, quindi non c'è stato modo di organizzarsi, di essere preparati soprattutto. Come stavano? Non proprio bene. Erano lasciati un po' allo stato brado. Lei consideri che Stefano ancora stava dentro una sorta di box dove col pannolone d'osso, quindi questo era lo stato in cui vivevano i ragazzi. E questo abbiamo detto che era il 2007. Sì, ottobre. Nel 2017 il Tribunale Civile di Messina condanna la Presidenza del Consiglio a risarcire i tre ragazzi. Circa 260 mila euro, poi diventeranno con gli interessi un po' più di 3,41. Perché il risarcimento? Perché si riconosce che c'erano state una serie di denunce che nessuno aveva aiutato questa donna a sopravvivere per se stesse e per i figli, corretto? Sì, sì, giusto. Bene. Dopodiché cosa succede? Eh dopo probabilmente c'è stato un buio totale in questo ultimo anno e mezzo perché non si è capito per quale motivo. In appello hanno deciso di tornare indietro, quindi annullano, sostanzialmente hanno annullato la sentenza perché comunque si ha dalla... E hanno detto ridateci i soldi indietro. Lei che ci ha fatto con quei soldi? Noi abbiamo investiti in un appartamento dove io personalmente ho lavorato, quindi ero strutturato tutta la casa per realizzarci un B&B all'interno e oggi il nostro sostentamento è quello perché... Beh anche voi siete un momento otto persone e lei in questi dieci, no sono ormai dodici anni, si è occupato di questi bimbi. a presto a presto!